Siamo presso la villa di Blasi, qui nel comune di Ronchi dei Legionari e insieme alla presenza della signora Elisabetta Bortolotto Sarcinelli. Questa è una villa, mi stava dicendo adesso che mi ha accompagnato a fare la visita, del fine 700 di eredità familiare. Sì, sempre in mano della stessa famiglia i Blasi, che sono la famiglia di mia madre. Ho visto che voi avete all'interno di questa villa, di questo parco bellissimo, che poi tra l'altro all'interno di un paese così è qualcosa di incredibile, di solito questo tipo di villa sono all'esterno, ben lontane dal paese, invece questa è insediata proprio nel centro. Io per scherzo dico tante volte che c'eravamo quasi prima noi del paese, perché questo è il classico paese friuliano più forse, che è nato lungo la strada principale, che era qui alla nostra destra, che è via Roma. Anch'io quando ero ragazzina, qua sul retro dall'altra parte era ancora piena campagna. Io giravo a dieci anni, guidavo il trattore qua fuori. Qui fuori? Sì. E poi si è sviluppato quello che è diventato poi Ronchi dei Legionari. Voi abbiamo visto, avete sia un ristorante che un agriturismo? Un agriturismo e poi abbiamo la produzione di vini. Siamo una cantina, siamo produttori di vini, siamo nati come tenuta vitivinicola. Allora, come tenuta vitivinicola, tutta la produzione autoctone, presumo, della nostra regione, quanti tipi di vini producete? Aspetti, quattro bianchi e tre rossi. E gli ettari? Avevamo 15-16 ettari, adesso è stirpato un paio di ettari, adesso siamo in produzione con 11 ettari. Quindi delle chicche di vino? Stirpati perché erano vitigni estremamente vecchi, che allora purtroppo erano entrati in sofferenza, però li abbiamo reimpiantati. La produzione quindi di questi vigneti servirà, penso, quasi esclusivamente alla mescita all'interno dell'agriturismo, del ristorante? Siamo anche all'estero. Siete presenti su che paesi? America, Austria, Germania, Svizzera. Avete una rete commerciale vostra? Io. Complimenti. L'agriturismo è aperto ogni giorno? Sì, 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 sette giorni alla settimana. Anche delle camere? Non ancora. Soltanto quindi? In primavera spero di averle pronte. I posti a sedere? Beh, diciamo d'estate molti, perché abbiamo uno spazio esterno molto grande, tra le altre anche spazi fino a 50-60 posti coperti. Presumo che a fine settimana sia sempre pieno, è preferibile telefonare, no? Sì, sì. Allora, concludiamo questa breve intervista, perché poi non la voglio tediare di più. Se qualcuno volesse vedere la villa stando a casa, quindi presumo ci sia un sito internet che può visionare quelle che sono le immagini della struttura, come si chiama il vostro sito internet? Sempre tenuta di Blasi. Tenuta di Blasi? Sì. Perfetto, la ringrazio. Grazie a lei. Grazie a lei. Grazie a lei.